amici di milan.soccer eccoci ancora insieme di nuovo buon primo maggio ben ritrovati grazie per essere qui con noi da me dalla direttrice che oggi è inquieta perché lei è una lavoratrice dice no al primo maggio non scherziamo è sacro il primo maggio allora vi ricordo di iscrivervi al canale di mettere un like a questo video un bel pollicione questo pollicione e poi di condividerle se volete parlate con i vostri amici insomma cresciamo 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 ora lasciamo andare questo è un video movimentatissimo lasciamo andare la direttrice no rimane allora parliamo parliamo di calcio mercato dunque dopo l'ampia figura di da parte della port va via l'audio come mai come mai va via l'audio va bene è relativa all'allenatore ma secondo me ne vedremo ancora delle belle e si fa torna a parlare del 9 del 9 del 9 del milan addio a girù e quindi ci sarà un nuovo un nuovo attaccante in copertina l'avete tutti riconosciuto si parla di zirk si che è la prima scelta da parte di ibraimovic e ci e compano non è uno starnuto e compagni beh francamente lo devo dire con grande sincerità ogni volta che il milan fa suo non uso le virgolette perché ho le mani impegnate fa suo in senso ironico un giocatore che cosa arriva arriva l'informazione arriva la notizia e poi gli scouting dell'inter che sono appunto la dirigenza del milan aprono a questo acquisto e a concretizzarlo sono quegli altri della squadra di milano è inutile stare qui a ricordare i nomi adesso dopo duram vogliono taremi e poi da quando il milan e su zirxi hanno deciso di prendere zirxi lo dico una vita propria non ce la fate a farvela uno stadio proprio credo di no perché per buttare fumo negli occhi avete speso 5 mila euro per riprendere il diritto di prelazione sul terreno di esclusività sul terreno fino a giù a gennaio avete possibilità di dire che farete anche voi lo stadio in fondo 5 mila euro non sono difficili da trovare come 3 mila per gli sfotto a teo hernandez dai ci siete su queste cifre e purtroppo oggi c'era un pochettino con con loro perché perché c'è da dire che ieri ausilio ha parlato proprio di zirxi e come la volpelluva dice no non la voglio mangiare perché acerba in realtà non è affatto acerba e ausilio dice in italia affari come gudmundson e zirxi sono difficili ecco perché puntini puntini ho aggiunto io perché ci vogliono i soldi è talmente complicato perché poi l'articolo stesso ci dice che la risposta alla data media set che adesso è diventata filo interista quando domenica notte al direttore sportivo piero usilio è stato chiesto se al primo posto nella lista delle preferenze dell'inter ci sia gudmundson o zirxi lui dice mi piacciono tutti e due ma sapete benissimo la difficoltà che ci sono a fare questo tipo di operazione in italia e tutti lì e beh certo ci vogliono i soldi e lui li ha dire cose senza un po una supercazzola alla tognazzi un bacione un saluto al mio amico gimbo tognazzi bene mentre zirxi ha deciso ha deciso in maniera diversa per lui la storia il milan rappresentano la prima scelta una prima scelta assoluta ma adesso chiaramente arriva il terzo ostacolo l'antagonista il terzo il terzo o meglio colui basta arriva colui che deve cacciare i soldi e cioè gerry cardinale perché se no rifacciamo come non perché c'è la noglo avesse scelto noi però fassero scappare per 500 mila euro in un calcio del genere io non lo voglio non non mi interessa non mi piace però insomma oggettivamente noi rischiamo di farci saltare mentre tutti parlano di 130 milioni per mbappé di scusate mbappé per le a o clausa la rescissoria noi ci perdiamo in un bicchiere d'acqua ci sono due cose che voglio dire relativamente al calcio mercato la prima riguarda appunto la questione dei contratti a noi abbiamo un tetto un tetto che è rappresentato dai 7 milioni di leao sono state un'eccezione un'eccezione un po' pericolosa perché da lì è iniziato il malcontento di megnano e teo hernandez e dei rinnovi che non potranno essere meno di quella cifra a loro dire da quest'altra parte tutto il processo di abbattimento dei compensi ai calciatori degli stipendi ai calciatori andrebbe un po' vanificato quindi staremo a vedere quello che succede quindi da una parte è la questione come dire contrattuale dall'altra invece è la questione relativa alla tempistica e alla comunicazione cioè la tempistica quando si vuole un giocatore si fa un acquisto lampo senza andare a smantellare scusate a dire in giro vogliamo questo vogliamo quell'altro perché poi arriva la concorrenza e al di là di dove possano prendere i soldi alla fine o quando pagheranno alla fine come dire te lo possono rubare e dall'altra parte oggettivamente c'è da dire che noi abbiamo ancora una volta lo ribadisco una pessima comunicazione considerando che sono due mesi che si sente zirk zi al milan lui finalmente ha dato il suo assenso tra l'altro il bologna riscatta il nostro salema kerra per cui come dire per quanto riguarda la i soldi sono tanti perché è un giocatore che ha una buona quotazione però alla fine ci sono quindi noi abbiamo bisogno come il pane di un attaccante ora qui si aprono altre due frange fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti da una parte chi ama zirk zi dall'altra chi dice non è un 9 cioè da una parte chi dice ricorda e la r la metto piccola 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 un zidane ok e dall'altra perché zidane è stato un grande ragazzi è come perché perché zidane è stato un grande poi possa che abbia sbagliato a indossare maglia un altro conto ne sentivo proprio sentivo proprio ieri ancelotti che parlava di zidane kk per lui sono nella top ten della squadra più forte di tutti i tempi ok almeno quelli moderni poi tanti ci sfuggono dell'epoca un po dai di un calcio non moderno ma dicevo per qualcuno invece non è il 9 diciamo alla lautaro martinez alla vlaovic ecco io quello è l'unico dubbio che ho ma ritorno al discorso bisogna capire tu con chi giochi cioè bisogna capire tu con quale allenatore vai a giocare perché un conto è giocare che ne so adesso tecnicamente non sono mai entrato nelle questioni però diciamo un 4 4 2 con gli attaccanti classici è un conto è giocare anche un po alla pioli con un 4 2 3 1 dove quest'anno tu non hai qualcuno in vetta alla classifica o giù di lì dei marcatori però oggettivamente possiamo dire che hanno segnato tanto in tanti e allora lì lo vedo bene però in una squadra rinforzata non si può pensare quest'anno di rifare lo stesso errore di spendere alla fine anche tanto però prendendo tanti giocatori dal valore che dai non è stato un valore eccelso ok va bene fatemi sapere che ne pensate quindi si dice sì al milan e lo mette in testa rispondendo di fatto alle parole di ausilio che usa la fiaba della volpe l'uva per dire sì ci piace però in italia non è che si possono comprare questi giocatori capito ci vogliono i denari e voi di sgay non ne avete ciao ragazzi